Nel pieno dell'emergenza coronavirus, all'interno del territorio dell'USLA2, quotidianamente come FPCGL rispondiamo alle criticità segnalate da parte dei professionisti dei servizi sanitari. A tal proposito siamo costantemente in contatto con la direzione dell'USLA. In questo momento riteniamo gravissima la mancata distribuzione di dispositivi di protezione a tutti i professionisti che svolgono l'attività a stretto contatto con l'utenza sia nei presidi che nel territorio. L'emergenza che stiamo vivendo impone tempestività e coerenza negli interventi. Non bastano più soli ringraziamenti. È giunto il momento di rispondere alle aspettative di tutti i professionisti che si stanno caratterizzando per un alto senso del servizio pubblico a favore dei cittadini dell'USLA2.